Io sono Laura Sargentini, sono una docente di FOI in ambito marketing e seguo i ragazzi che imparano a gestire e-commerce e marketplace. Bene, in questo momento di crisi c'è stato un forte incremento pari a ben l'81% in più nella prima settimana di criticità rispetto agli acquisti online effettuati prima della chiusura totale dei negozi. Questo che cosa ci porta a dedurre? Che l'interesse per gli acquisti online in questo momento sta avendo un picco. E chi ne giova di questa situazione? Bene, le aziende che per tempo si erano già strutturate per il commercio a distanza online e anche attraverso l'utilizzo dello smart working. Quindi tramite il lavoro agile poter continuare a lavorare, non solo magari nei giorni festivi, ma in questi casi ovviamente impossibilitati ad aprire il negozio fisico. Le prospettive quali sono? Sono quelle di partire subito. Quello che gli imprenditori sono invitati a fare adesso, se non l'hanno già fatto, è aprire dei canali di vendita sul web. Il commercio elettronico dà la possibilità di continuare a superire quelle che sono le esigenze magari dei vostri clienti in questo momento. Attualmente creare un e-commerce è una cosa un po' difficile da fare, un po' perché ci si impiega del tempo, mentre la soluzione che sembra essere più adatta, veloce, economica, è proprio quella di approcciare il mercato tramite i marketplace. Considerato che al momento i corrieri funzionano ancora, quello che si può fare è sicuramente poter gestire il magazzino e iniziare a creare inserzioni. Bene, è proprio in questo caso che IFOA da anni sta formando professionalità legate al commercio elettronico, la digitalizzazione. Bene, sarebbe il massimo che voi poteste imparare non solo a capire come funziona, ma anche a gestire quello che è tutto l'organico legato al commercio elettronico. Tuttavia, se ci sono ragazzi o persone adulte, in ogni caso, che sanno già farlo e lo fanno con competenza e professionalità, perché non inglobarlo magari con un stage da subito per non rimanere indietro? Perché alla fine di questa crisi che cosa succederà? Succederà che chi ha tenuto chiuso ha avuto non solo un guadagno zero, quindi fatturato zero, ma ha perso anche come valore nei confronti dei propri clienti, ma anche non hanno avuto la possibilità di essere intercettati e trovati da nuovi clienti. Quindi saranno in difficoltà, mentre chi si è organizzato per tempo e quindi magari ha iniziato ad aprire un account su eBay o su Amazon, che sono i principali marketplace in Italia, sicuramente trerà vantaggio.